Stiamo andando al tempio di Meiji Jingu Proprio tantissimo tempo piove Io non lo conosco Non ho visto nemmeno le foto e quindi niente Però è bello già dall'inizio Si è una figata Non lo conosco Ok allora abbiamo visitato il tempio Ora stiamo andando Nella parte dove ci sono i dinosauri Speriamo di vederne qualcuno Insomma dice Se facciamo silenzio Se qualcuno si mi vede Ora spero a vedere Facciamo anche un occhio zio Ciao Ciao Siamo a Shibuya Abbiamo visto la strada di Ashiko Questo è quello lì dietro di noi E' il semafero famoso Dove ci passano migliaia di gente Tutta in contemporanea Allora siamo a Rappongi Per ora non c'è niente Però abbiamo trovato il kebab E quindi magari ci ingeremo a mangiare il kebab Non il kebab Speriamo Vediamo questo kebab Buono 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.